1.274 tamponi processati e 47 nuovi positivi sono questi i numeri dell'ultimo bollettino dell'ASRA. Ad Ariano 5 positivi ed 8 a Montella, ma in questo caso c'è da precisare che si tratta di positivi compresi già nei 12 che sono stati comunicati ieri dal sindaco Buonopane. Casi accertati attraverso uno screening che è continuato anche oggi sulle persone che negli ultimi giorni hanno avuto contatti diretti con chi è già positivo. Un'indagine che prescinde dalle attività già programmate dall'ASRA. Il primo cittadino di Montella, in seguito ai nuovi casi Covid, ha disposto per oggi e domani la chiusura degli uffici comunali ed ha prorogato ulteriormente la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole dell'infanzia pubblica e private, per le scuole elementari e medie, fino a sabato 30 gennaio. Altri due positivi nel comune di San Martino, Valle e Caudina, dove i casi Covid attualmente sono 50. Anche qui da alcuni giorni si sta vivendo una situazione difficile a causa della diffusione di un focolaio. Anche nel comune del sindaco Pasquale Pisano è stato effettuato uno screening che ha permesso di accertare altri 13 positivi. Le elezioni in presenza anche in questo comune sono state sospese fino a sabato. Sono invece 1.178 nuovi casi Covid in Campania. Il tasso di positività scende al 7,39%. Le nuove vittime segnalate dal bollettino dell'unità di crisi sono 26, di cui 9 decedute nelle ultime 48 ore e 17 risalenti ai giorni precedenti. 107 le persone ricoverate in terapia intensiva.